Eccoci qua, finalmente con il prossimo... Piacere Massimo Dovresti andare alla corrida? Che cosa presenti alla corrida? Allora, canto un brano intitolato Cennaro Il Ciccheccian del Bidello Della segretaria Ciccheccian della segretaria E come fa la canzone? Allora, il modifetto in pratica fa il corso Ciccheccian e la segretaria Ciccheccian e la segretaria E Bidello senza pisellino